Terzo giorno d'assemblea sindacale, quello di oggi, per i dipendenti della IGM di Modica, che non percepiscono lo stipendio dal mese di giugno. I lavoratori, già in stato di agitazione ed in astensione dagli straordinari, sono tornati a riunirsi per valutare altre forme di protesta come lo sciopero. L'ultima assemblea di mercoledì scorso era terminata con un sit-in davanti a Palazzo San Domenico ed una delegazione aveva incontrato il sindaco per chiedere chiarimenti riguardo alle mensilità arretrate da saldare. Attualmente hanno ricevuto da parte del comune di Modica solamente un acconto di 400 euro per il mese di giugno e la situazione potrebbe protrarsi ad acconti fino a dicembre. Soluzione, quella degli acconti, non ben accolta dai lavoratori, che continuano lo stato di agitazione e rinnovano a lunedì prossimo l'assemblea sindacale, con un nuovo sit-in di protesta davanti al comune di Modica. Situazione un po' più rosa, invece, a vittoria per gli operatori ecologici del comune, che anch'essi in stato di agitazione potrebbero ricevere gli emolumenti a metà della prossima settimana, secondo i sindacati FIA e delle OGL. Ma non si esclude la convocazione di assemblee sindacali, seppur rassicurati dal vice prefetto Dionisi, per capire quale difficoltà causano questi ritardi, quasi ogni mese, pur con la disponibilità delle somme nelle casse di Palazzo Iacono.